A Sanza è lotta senza quartiere contro chi lascia abusivamente rifiuti per strada. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, ha adottato un'ordinanza per l'attivazione di fototrappole in grado di stanare i furbetti dell'abbandono selvaggio, una pratica inaccettabile a danno dell'ambiente e dell'intera collettività. La Polizia Municipale è stata dotata di speciali dispositivi che saranno installati su tutto il territorio comunale e serviranno ad individuare più facilmente coloro che disperdono rifiuti nell'ambiente. Le fototrappole saranno gestite dal responsabile degli impianti di videosorveglianza individuato nella persona del comandante della Polizia Municipale, il maresciallo Vincenzo Manduca. Stando a quanto riferito dal sindaco Esposito, con tali dispositivi si raccoglieranno immagini utili ad identificare in modo diretto o indiretto chi si sbarazza dei rifiuti. Il territorio comunale sarà monitorato nel rispetto della normativa sulla privacy, la presenza delle fototrappole sarà segnalata con appositi cartelli e verranno installate a rotazione nei luoghi maggiormente colpiti dal fenomeno, quindi presso l'isola ecologica, lungo le strade rurali, nei pressi dei cestini stradali, oltre alle aree interessate dal ripetuto abbandono di rifiuti quali cimitero, posteggi, parchi e giardini pubblici. Duplice è la valenza della misura adottata dall'amministrazione Esposito. Quella preventiva si spera servirà da deterrente contro tali atti di inciviltà e quella repressiva farà infatti anche da supporto ad eventuali attività investigative. I trasgressori verranno puniti con sanzioni pecuniarie, se però l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi e speciali, la violazione può sfociare in reati di carattere penale.